La città popolare ed esoterica, quella dei diavoli e dei monacelli, è la città oscura, popolata da anime nere, è la protagonista di Agendo 2019 Napoli inquieta, l'agenda libro di Gesco che percorre l'anno con 12 racconti inediti, una poesia e immagini dell'artisto Reste Zevola. Giunta la 14esima edizione Agendo ha come sempre una finalità sociale, per quella del 2019 il ricavato delle vendite andrà a sostegno del centro socioeducativo Il Piccolo Principe per ragazzi della periferia est di Napoli, realizzato dalla cooperativa sociale Terra e Libertà. Con storie di spiriti, racconti neri e ironici, firmano i testi di Agendo 2019 gli scrittori Sara Bilotti, Vladimiro Bottone, Nicola De Blasi, Vincenzo Esposito, Gianni Molinari, Aldo Putignano, Michele Serio, Chiara Tortorelli, Serena Venditto, Massimiliano Virgilio e Dino Falconio e Mauro Giancaspro. Saranno 12 racconti, 12 momenti di inquietudine di questa città, che è una città che vive sul fuoco, una città che vive tra il Vesuvio e tra i campi flegrei, quindi è comunque una città inquieta. Io ho preso ispirazione da un passo di una bellissima canzone, Quando è tramonto sole, di Gambardella, che dice, recita a un certo punto, lieva ma pietta sta fattura nera e da questa frase è venuto il mio racconto che inizia proprio così, stracciami da petto questa fattura nera. In chiusura e fuori calendario una poesia inedita di Francesco Romanetti, la prefazione invece è dello scrittore Maurizio De Giovanni, che affianca la presentazione del progetto a cura del presidente di Gesco, Sergio D'Angelo. Siamo partiti nel 2006 con i disegni di Oresto Zevola e oggi ripubblichiamo quei disegni e dedichiamo questa agenda, dopo che ci siamo occupati di acqua, di terra, di sociale, di città, di Napoli, di clandestinità. Ci occupiamo quest'anno della Napoli esoterica, della Napoli dalle tradizioni popolari e vale a dire ci occupiamo degli spiriti maligni, dei monascelli e della bella Ambriana insomma.